Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di FIFA Ultimate Team Questa è la squadra, sì, ok, è vero, ho cambiato più squadre che... Quindi andiamo a cercare il nostro primo avversario Il nostro prima... che cazzo però... Ah, il Bayern Monaco questo, oh Maria, ci farà il culo praticamente come... Enrico Pasquale Giapponese Guarin, Guarin, per Perisic, Perisic, ancora Perisic, Perisic, la pasta in mezzo, Guarin, Guarin, tenta la bomba, Guarin! Fermatela in qualche modo, cazzo, e roba, e non è Cerci, anche se si può confondere... No, 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 Suka! Suka! No! Sì! Sì! Suka! Due volte, tre, dieci volte, all'infinito! Alessandro! Alessandro, Alessandro, amma mia, è un animale, Iguain! Cerca di entrare, Iguain, 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 Iguain! Il tiro attraversa! Iguain ancora! Uno a uno! Segniamo, finalmente! Mamma mia, un pareggio, un pareggio ed un parto! Ok, ora, non facciamo la minchiata di farci fare subito golle, Insigne, Insigne per Dybala, Dybala, Dybala ancora, Dybala, 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 Dybala... No, 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 Dybala, devi fare un passaggio, sai cosa vuol dire un passaggio? Quindi, la palla gliela gavi nel... Iguain, Iguain per Dybala, 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 la pasta Perisic, Perisic, per favore, mi sei costato... 35 reni, Perisic, Perisic, ancora Perisic, Perisic, che cazzo fai Perisic? Ma perché io ancora combatto con te? No, no, mamma mia, Alessandro, buona, buona! Finisce, uno a uno! Oh, mamma mia, che sofferenza di partita! Andiamo direttamente alla seconda! Bene, questa è la nostra seconda squadra! Perché non è questa la mia squadra? Devo giocare con quegli scaricatori di Porto! Bene, questa è la nostra seconda squadra! Oh, cazzo! Questa è... Non so se devo preoccuparmi più del portiere O del terzino destro Che puro ho trovato nei pacchetti! Ibrahimovic, giustamente, è l'unico buono che trovo Me lo devo mettere qui al centrocampo Questi Shurle e Luis Gustavo li ho trovati anche Dante l'ho comprato E davanti il trio, meno male che c'ho il top player Ovvero Ciccio Brienza Insieme, ovviamente, a lasagna e maccarone Ma chi cazzo me lo fa fare a me? 2000 anni dopo Sì! 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 Si verifio... Nooo! Si verifio un errore! Mannaggia! Purtroppo ha trovato il nostro avversario Giustamente, chi non mi deve mettere Sennò una super squadra con quella banana di Young davanti Ma perché il portiere è un nano? Me lo spiegate Se facevo più figure a mettere Ibrahimovic in porta Al Nazeri Vabbè, quello là Al Sabi Al Sabi No Oh Wasabi Ma è un trago No! No! Oh mamma mia, sto portiere è un fenomeno! È un fenomeno! No! Mamma mia! È un fenomeno assurdo Al Sabi Al Sabi per il Nazeri Brienza Ciccio Brienza Ancora Ciccio Ciccio Brienza Brienza Perché? Perché? Perché sto giocando con questa squadra? Che male ho fatto nel mondo Alzaieri 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 Buona Buona Per Maccarone Maccarone Allarga Allarga per Al Sabi Al Sabi Al Sabi ancora Al Sabi Al Sabi Perché? Fai le finte Già fai finta di essere un giocatore E fai pure le finte No! 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 Eh... Ok, su quattro difensori Ce n'era Se no ho uno che vale per mezzo Quindi... Che cazzo mi lamento Ibra 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 Mamma mia Ibra Stavo dicendo che cazzo ha fatto Ibra sotto l'incrocio Meno male che c'è lui Anche se è il vero top player Ovviamente Ciccio Brienza Ma Ibra 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 Li sgustavo Li sgustavo Li sgustavo ancora Li sgustavo La butta in mezzo Per la testa di Maccarone Maccarone Mamma mia 2 a 1 Che cazzo di risultato impensabile Non ci avrei mai sperato Meglio continuiamo con... Nazeri 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 Oh 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 Piano Eh va bene che eh Però la famiglia ce l'ha pure lui Allora li facciamo tirare a... Sarebbe troppo scontato tirare con Ibra Quindi... Che tiriamo col portiere? Che cazzo esce? Io tiro col portiere Oh mamma mia che cazzo stavo facendo arsaglieri? Ti chiamo già io quello totto Oh fermatelo E fermatelo E che cazzo Fermalo 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 Ma no che si fanno pure la deviazione Sti massa di menomati Shurle 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 Per Nazeri Al Nazeri Al Nazeri Non so manco che cosa sei Difensore Terzino Non lo sai manco tu Al Nazeri Al Nazeri Traversa Traversa di Al Nazeri O Al Nazari Naziran Cazzo si chiama Brienza Brienza Ancora Brienza Mamma mia calcio champagne Brienza No che poi non c'entra Semmai era calcio gazzosa Comunque Brienza Brienza ancora Si fa sentire Al Nazeri Al Nazeri ancora larga Brienza 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 Palo 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 Noo Fermate Per favore Aubameyang Dante Dante Entrato Mamma mia Noo come rigore Ma come rigore Eppure me lo butta fuori Ah ok, ecco perché rigore Perché gli ha staccato una caviglia Dai alzaieri, fatti valere Alzaieri contro Müller Ok, Schurle abbiamo capito che non è cosa sua Fare il difensore centrale Ci mancherebbe Eeeh Ops, 4-2 Vai Maccarone Maccarone, Maccarone per Avasavi, Ibra Ibra per Schurle, Luiz Gustavo Luiz Gustavo per Brienza Brienza, Brienza per Lasagna Lasagna, Lasagna Oh mamma, Lasagna grandissimo Lasagna fa le cose inutili Ibra, Ibra nuovamente per Lasagna Lasagna, Lasagna Lasagna la butta in mezzo per la testa di Maccarone Mamma mia Maccarone Quando mette la testa è impressionante 3-4 Cerchiamola di rimontare sta partita No, chi è? Brienza Brienza, Brienza allarga per Lasagna Lasagna, Lasagna ancora, Lasagna Lasagna, Lasagna si ferma Lasagna, Lasagna ancora Lasagna, Lasagna La butta in mezzo No, c'è Luiz Gustavo Chi è? Mamma mia Che cosa ha fatto Ciccio Brienza? Ha segnato di rovesciata Il gol più bello Ho detto che mi sia Mamma mia Non ci voglio credere Non ci voglio credere È lui il vero fenomeno della squadra Altro che Ibra È lui la stella di questa squadra Ciccio Brienza 4-4 Cosa chiede a San Lasagna 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 per Brienza Brienza Mamma mia Brienza Brienza Minchia Oh mamma mia Al Nazeri Al Nazeri Al Nazeri Maccarone 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 Siamo al novantesimo Maccarone Maccarone Dammi il rigore Stronzo di un arbitro Dammi il rigore Che l'ha ucciso Dieci volte Stronzo Schifezza immonda Alzabi Fermate Tevez Oh cazzo Oh cazzo No siamo al novantesimo No 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 Un sogno svanito Per una squadra di scappati di casa Peccato Veramente un peccato Purtroppo è finita questa partita Secondo me meritavano La grande squadra che avevo composto Meritava il 4-4 Io vi saluto con questa squadra di scappati di casa Veramente Ragazzi se questa squadra in generale questo video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Iscrivetevi nei commenti Un saluto da Simone dei 4 Joypad Ciao a tutti Grazie a tutti